Dalle rimonte amare subite nei due precedenti turni a quella dolcissima centrata oggi pomeriggio per blindare definitivamente il discorso salvezza diretta. Nel trentesimo turno d'eccellenza con quattro giornate d'anticipo la Virtus Cupello ha tagliato il traguardo rimontando tra le mura amiche la Renato Curi Angolana ormai lontana dai playoff al vantaggio di Cercelluti ha risposto Tafili per il pari e Pedalino a blindare il definitivo 2 a 1. Con le immagini curate da Edoardo D'Addario passiamo alla cronaca del match. Il primo squillo è ospite dopo un minuto botta violenta di Capitano Farias a sfiorare l'incrocio. Al decimo il tiro cross di Ucci è pericoloso, Di Giacomo si salva come può. L'angolana preme forte e due minuti più tardi sfiora il vantaggio con il colpo di testa di Cercelluti, debole e di millimetri al lato. Minuto 17, azione orchestrata. Dalla sinistra assisti Miciche raccolto sul secondo palo da Patanè a centro area Di Giacomo e provvidenziale su Farias. Rosso e blu sorpresi dalla partenza ospite ma al ventunesimo ci prova squadrone. Sberla di destro a solvolare la traversa. Allo scoccare del venticinquesimo la Renato Curri sblocca il match. Ceccani dalla sinistra serve un cioccolatino per Cercelluti che lasciato solo in area ringrazia e firma il vantaggio. Sotto di un gol i padroni di casa si svegliano e iniziano a carburare. Al ventisettesimo giocata sulla sinistra di Troiano da due passi Stivaletta impatta ma non trova lo specchio varificando una ghiotta occasione. Scollinata di un minuto alla mezz'ora passaggio di Stivaletta per i Race che conclude di destro ma il pari non arriva. I cupellesi trasformati dopo l'inizio timido dei primi 25 minuti premono forte e al quarantesimo trovano il meritato pari. Angolo battuto dai Race di testa Tafili anticipa tutti e sul secondo palo batte Cucerenco firmando da centrocampista il secondo gol consecutivo il terzo negli ultimi quattro turni. Sulle ali dell'entusiasmo i cupellesi cercano la via del pari per completare la rimonta già nel primo tempo. Al quarantatresimo splendida percussione solitaria di Stivaletta che penetra in area e va a terra. Il dieci vastese reclama il penalty ma il fischietto Marsicano da buona posizione lascia correre. Al rientro degli spogliatoi dopo due minuti Pedalino si mette in proprio. Slalom gigante d'applausi ne salta un paio elude anche Cucerenco ma calcia a lato da posizione complicata. È il prodromo del gol che arriva cinque minuti più tardi. Dalla sinistra palla lavorata da Stivaletta assista al centro per Pedalino che questa volta fa centro completando la rimonta. Sesto gol in campionato per il trentasettenne bomber campano. Gli ospiti ora chiamati a rincorrere ci provano con due diagonali da fuori. Al tredicesimo tocca a Ceccani più pericoloso Ucci che tre minuti più tardi però non trova la porta. Nella mezz'ora finale ben poco da raccontare. Al triplice fischio la festa è tutta della Virtus Cupello che con il 2 a 1 finale abbraccia la salvezza diretta toccando quota 41 punti.